Ragazzi Passaggio i primi duecento metri 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 Passaggio al 600, ultimo giro. Grande gara, sono in testa a te di caurani, fiamma. Sì, sono in testa a te di caurani, fiamma. Sì, sono in testa a te di caurani, fiamma. Sì, sono in testa a te di caurani, fiamma. Sì, sono in testa a te di caurani, fiamma. Sì, sono in testa a te di caurani, fiamma. Sì, sono in testa a te di caurani. Bene il ritmo dei mille ragazzi.